Ciao a tutti, oggi parliamo della poliomiopatia ipocalliemica nel gatto, una patologia causata da un ridotto valore di potassio nel sangue sotto le 3 millimoli litri. Prima di iniziare questo video vi ricordo sempre che in questo canale carico settimanalmente video sulla medicina veterinale del cane e del gatto, quindi se avete un cane o un gatto vi invito ad iscrivervi qua sotto perché può essere interessante seguire questo canale perché cerco di spiegarvi le patologie del cane e del gatto in modo abbastanza semplice, in modo che possiate un po' capire fondamentalmente meglio le patologie magari che vengono diagnosticate, speriamo di no, ai vostri cani e ai vostri gatti. Inoltre a volte nel canale troverete anche dei video in cui parlo di argomenti magari più generici sempre relativi al cane e al gatto. Inoltre se volete supportare questo progetto vi ricordo di mettere un bel mi piace al video. Partiamo subito con questa patologia poliomiopatia ipocalliemica nel gatto. Fondamentalmente abbiamo una diminuzione del potassio ipocalliemica che dà una problematica a livello muscolare. Fondamentalmente cosa può succedere? O viene introdotto poco con l'alimentazione o viene escreto eccessivamente attraverso i reni. Quindi le patologie di solito coinvolte fondamentalmente in questo tipo di problema, quindi di ipocalliemia, sono tendenzialmente un'anoressia importante o un'insufficienza renale cronica. Possiamo avere anche nella poliuria polidipsia da ipertiroidismo, nei gatti burmesi che c'è uno squilibrio tra potassio intracellulare ed extracellulare e anche nell'iperaldosteronismo nel gatto soprattutto causato da neoplasia sorrenalica. Queste diciamo sono le cause per cui abbiamo un basso valore di potassio. Come si manifesta? Quali sono i segni e sintomi di questa patologia? Abbiamo la caratteristica della ventroflessione del collo nel gatto, quindi abbiamo un gatto che tiene la testa praticamente giù, abbiamo un eccessivo movimento delle scapole, una rilottanza a muoversi, una debolezza generalizzata. Di solito l'esame neurologico è normale e anche la biopsia muscolare è normale. Tendenzialmente all'esame del sangue troviamo fondamentalmente il potassio basso. Cosa fare? Ovviamente integrazione con potassio per chiaramente riportarlo a un valore normale e questo ovviamente migliora e risolve la sintomatologia muscolare. Chiaramente non ci limitiamo a quello, bisogna capire la causa principale che ha causato questo tipo di problema, quindi vedere se c'è un'insufficienza renale cronica oppure se c'è un ipertiroidismo. Quindi fondamentalmente è una patologia molto caratteristica a livello diciamo di segni, nel senso che abbiamo questa ventroflessione del collo e quindi è questa a volte movimento delle scapole che non sembrano fargli male però hanno questo movimento un po' strano. Però caratteristica proprio la ventroflessione del collo. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima. Ovviamente concludo che la terapia è chiaramente ripeto l'assunzione di potassio, quindi dare potassio o via orale o via preenterale, ma chiaramente anche capire la causa secondaria, come abbiamo detto un'insufficienza renale cronica oppure fondamentalmente un ipertiroidismo oppure ancora un iperaldosteronismo. Un saluto a tutti e alla prossima!